PUNTER 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 HÈ CRASHIATO PUNTER NO SI E' MUTATO PERCHE STAVA CASINO A CASA VAI VAI QUERI STO' STANDO Non lo calo, Croix Vai, vai, vai Al chip, raga Abbiamo la gente dietro qua, non possiamo restare Dobbiamo andarci in questa montagna qua Come fa? Snowbird da destra, raga Via Ve la sentite di pushare? Sì, sì, sì Siamo vissi Siamo i fumogini Tirate le granate, tirate le granate Cicchine Cicchine vieno presa a me Sopra a sinistra Mi sta eserforzato Trappole, trappole Travi Trappole, ragazzi Trappole di Rianimate veloce Rianimate veloce Rianimate veloce Gente dietro abbiamo, gente dietro Full team dietro Rianimate veloce Rianimate veloce Ultima, alla roccia a sinistra pure Questi con lo snobber Una si è buttato giù Mi pushano Mi pushano da sotto Mi pushano da sotto Mi pushano da sotto Mi pushano da sotto Qua ragazzi, guarda me Qui, a direzione 160 Due sotto qua Una 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 Ragazzi Mi serve una mano qua sotto Che in giro troppo Grazie Bravi Teniamoci questa montagna, raga È la migliore della safe zone Stanno prendendo l'avio Noccato uno con l'avio Hanno busciato sulla roccia Bravi ragazzi, bravissimi Teniamola, teniamola, teniamola Guardatevi intorno Stanno chiamando l'avio a 280, raga Pronti a sparare sul avio Sparate l'avio Occhio dietro pure Occhio giù C'è ancora gente qua giù Occhio raga, chi non ha il cecchino si guardi attorno Chi non ha il cecchino si guardi attorno Guardatevi attorno Non fa niente Ti ricordo che non valgono un cazzo Sì, abbiamo gente qua Occhio dietro, occhio dietro, la casa è chiusa su di noi, la safe Sparano con i cecchini questi a 3,40 Ok Teniamola, teniamola Se questi usciano, bondi a venire qua Granate, di che Granata, raga, ci stanno tirando Da che lato Sono questi a 3,40 A 3,40 Quanto stanno lontani, quanto stanno lontani Ok, mi serve un medico Sono vicini, bro Però stanno Però stanno sparati sotto Stanno sparati Prendili nel loot Dio Dio, lascio Venti lasciati Questa granata è perfetta Ce ne sta ancora una, Riccardo Le hai tagli tantissimo con la granata, la dietro Questi ma devono uscire dalla Si chiude la safe Manno mia Raga, dietro non sta coprendo nessuno Questo lato qua serve copertura Gente che sale, infatti Eccolo Fatto Altra gente Raga, il panico qua ci sta Fatto Continuate a coprire Salvano pure il 228 Sanno qua sotto Ragazzi Siamo 3 contro 3 3 contro 3 Dove stanno? No, ragazzi Sì, 300 Audio Mutatevi 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 No